Gentili telespettatori, rieccomi con questa nuova ricetta che rivoluzionerà la vostra linea Una ricetta eccezionale come potete vedere Qua abbiamo un esemplare che per soli tre mesi ha fatto questa dieta Basta medicinali, basta stress, basta palestra, basta tutto Con questa dieta rivoluzionaria voi avrete un fisico così Guardate che pentorali, voi avrete un pentorale così Ma che dico due, voi avrete un profilo come questo, con questa dieta La dieta è una dieta eccezionale che solo io posso darvi Solo io posso garantirmi che funzionerà In tre mesi perderete ben 25 kg Provare per credere questo ragazzo era ridotto peggio di me E ora guardate, guardate che glutei ragazzi Allora, telefonate al numero 047 80 90 70 80 90 90 E avrete la mia ricetta Non mi pare, una dieta Straordinaria, basta fatiche, basta palestra, basta andare a correre Alla mattina e dopo i pasti voi assumerete una cosa di questa E sarete così Come questo ragazzo che ho qui vicino a me E un saluto E un buon proseguimento No all'alcolismo No all'alcolismo No all'isaronno No alla vodka No al Ramazzotti No al Contro No al Montenegro No al Montenegro No al Gilema No al Montenegro No al Contro No al Cognac No al Campari No al Giappanais No al Vino Brenco No allo Zedda Piras No all'Icovino No al Molino No al Cinalo No al Borghetti No alla vodka No al Montenegro No al Davis No al Jack Daniels No al Cuba Libre No all'Amarro del Capo No al Nisaronno No a Montenegro No al Ramazzotti Stop al Marvini No all'alcolismo In diretta dal Martintempo Dite no all'alcol No all'alcol Grazie a tutti Chiara Chiara Ma ne avevamo detto basta con l'alcol Eh? Chiara Ma ne avevamo detto basta con l'alcol Chiara Chiara Chiara